Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Mazzagni Carnevale 2020 in questa emblematica location di Piazzale dei Magistris della scuola storica della città dei Papi. Prima di iniziare la gara vorrei fare un annuncio a nome del prologo e dell'amministrazione comunale tutta e naturalmente a voi presenti di un triste fatto accaduto e vorremmo esprimere vicinanza e solidarietà al dolore della famiglia di Mirko Cisbaglia che è scomparso naturalmente in questi giorni, giovedì scorso quindi una vicinanza sinceramente a questo ragazzo a questa famiglia distrutta dal dolore che ha lasciato l'intera città a todita. Torniamo a noi all'evento. Quest'evento è stato organizzato dall'associazione prologo dell'amministrazione comunale tutta quindi il sindaco, l'assessore che andremo anche tra breve a presentare e realizzato un co-test per la premiazione di tre categorie di maschere la maschera più bella, il gruppo più originale e un nome particolare, il gruppo con più alto valore educativo, sociale fortemente venuto qui da De Magistris cominciamo qui subito a fare anche un applauso a questa bellissima scuola che è l'embrema della nostra città e sono stati invitati, grazie sono stati invitati a partecipare tutti i cittadini dagli zero agli anni più adulti quindi tutti quanti ovviamente la partecipazione diciamo è libera e gratuita devo fare anche una comunicazione a tutti i genitori mi raccomando cercare di ascoltarmi un attimo è una comunicazione per voi chi è che non volesse pubblicare le foto dei bambini perché giustamente sono piccoli deve dare il consenso rivolgendosi al presidente della giuria che poi andremo a presentare Augusto Berilli mi raccomando per quanto riguarda i premi di questa serata ci sarà un titolo onorifico e alla maschera più bella al gruppo più originale e anche una targa di premiazione adesso andremo a presentare un ospite una persona che è importante qui il sindaco Daniele Natali avvieni Daniele un applauso grazie Daniele si sta prestando grazie di questa manifestazione con l'onore di presentarlo buonasera ah li chiamiamo subito pensavo prima di dare la parola